Nell'ultimo video abbiamo visto come proteggere una connessione di desktop remoto utilizzando per l'appunto un servizio di doppia autenticazione, Protectimus Per chi non ha visto il video ve lo lascio qui sopra Oggi vi voglio fare vedere un altro software molto molto interessante, alternativo a Remote Desktop di Microsoft Che vi permette di fare numerose cose Ora vi faccio vedere sul sito ufficiale Potete scaricare direttamente la versione RDP Server Il software si chiama TS Plus, non so se lo conoscete o meno Se andiamo a effettuare il download Allora io qui ho preparato una macchina virtuale Non importa il sistema operativo nel senso che TS Plus funziona su Windows Server, funziona su Windows 10, funziona su qualsiasi edizione dei attuali sistemi operativi Microsoft Lo andremo a provare direttamente in Windows Server 2019 Allora andiamo quindi innanzitutto a scaricarlo Tutti penso conoscete i servizi di desktop remoto Microsoft Praticamente se installano i servizi di desktop remoto nel server va presa una licenza molto costosa ovviamente E praticamente grazie a questi servizi potete loggarvi in desktop remoto in maniera multisessione, multiutente Quindi se nel vostro server create 10 utenti, tutti e 10 possono connettersi in contemporanea senza che uno butti fuori l'altro e viceversa Cosa fa TS Plus? Ah innanzitutto fa questa funzione Ad un costo molto 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 interessante Perché se andiamo a vedere Il TS Plus System Quindi la versione base che permette solo di sbloccare desktop remoto multiutenza Costa 70€ Se andiamo a prendere per 3 utenti poi Se andiamo a prendere con supporto Arriviamo a spendere 94€ Quindi diciamo è molto molto conveniente rispetto a Microsoft Remote Desktop Se andiamo a prendere la licenza da 5 saliamo sui 115 10 utenti, 195 25 utenti eccetera Fino ad arrivare all'illimitata Che ci permette di avere illimitate multisessioni per l'appunto a 650€ Più ovviamente i relativi supporti, supporto tecnico eccetera Che va ovviamente pagato a parte E aggiornamento ovviamente Una volta scaricato l'applicativo Sta ancora scaricando Una volta scaricato l'applicativo lo andiamo ad installare Attendiamo un attimo che termini il download Ok andiamo avanti A questo punto lui mi chiede Se voglio attivare o meno TS Plus Web Server Allora questa cosa è una cosa fortissima Ora vi faccio vedere Allora gli cambio porta Non lascio la porta standard Ne metto per esempio 8.8 E metto per esempio qui 4.4.3.3 Ok e lo lascio attivato Ok andiamo avanti e lo installiamo Ecco qua L'installazione è terminata Non installiamo l'advancing security Vediamo che ci ha aggiunto due icone nuove Un admin tool e un portable client generator Vi faccio vedere come funziona Ok no non riavviamo Allora se lanciamo l'admin tool Praticamente da questo dashboard potete andare a impostare tutte le configurazioni di TS Plus Praticamente da questo momento in poi voi avete la licenza attiva per 15 giorni E il server in questo caso Windows Server 2019 Ma se fosse stato 10 Ripeto funzionava uguale O anche per i sistemi operativi precedenti E' già pronto ad ospitare sessioni multiutente degli utenti in desktop remoto Quindi andremo a configurare i nostri vari utenti di desktop remoto Come facciamo solitamente anche con le licenze di Microsoft Andiamo a creare i vari utenti Li andiamo a segnare al gruppo utenti desktop remoto E potremo a quel punto collegarci in desktop remoto anche con più utenti Andiamo a mettere per esempio uno su administrator Ok Lo posso fare con tutti gli altri E a quel punto se mi vado a collegare in desktop remoto sulla macchina TS Plus farà in modo che in base alla licenza che avete acquistato Vi potrete collegare con n utenti Andiamo a fare una prova 172, 29, 113, 134 Ok mi chiede un utente password Andiamo a mettere e vediamo che mi fa entrare Vabbè mi avrebbe fatto entrare normalmente anche se non avessi avuto TS Plus installato In quanto finora è solo un utente Se entravo con più utenti sicuramente mi avrebbe fatto entrare Ok quindi abbiamo praticamente la possibilità di utilizzare la multiutenza Un costo molto molto più accessibile Ma qual è la cosa bella di TS Plus? Che se notate qua le porte che ho scelto io Lui ti crea un server interno al pc o al server che sia Lo andiamo ad avviare Ok e praticamente vedete ora mi segna localhost Perché ovviamente vedete quella macchina lì Andiamo a vedere l'IP che già non lo ricordo più 172, 29, 113 172, 29, 113, 134 Allora ci vado magari in HTTPS Quindi faccio HTTPS Due punti la porta che abbiamo specificato prima 4443 Ok mi compare questa schermata E questo è possibile proprio per l'appunto grazie a TS Plus Allora se io nel mio firewall Vado ad assegnare un sottodominio di un dominio magari di mia proprietà Lo vado a reindirizzare a questa macchina virtuale Su questa porta 4433 Automaticamente potrei fare ad esempio HTTPS punto Che ne so Win10.aizuki.com Due punti 443 Quindi ovunque mi trovo posso accedere a questa pagina Ok andiamo a loggarci Nomotent e password sono quelli di accesso al server Ok non di TS Plus Quindi administrator La password del server E praticamente lui se io faccio lo con Imposterà una connessione sicura tra il mio browser e il client E come vedete ho addirittura desktop remoto in Chrome Posso andare a utilizzare il PC Cioè quindi è come se avessi un desktop remoto integrato nel browser Semplicemente digitando un indirizzo Chiunque ci riuscirebbe no Magari se lo pubblichiamo Se noi avessimo qui specificato 443 Ok la porta standard di HTTPS Potrei proprio associare il mio dominio Server.ezuki.com E tutti quanti in maniera molto molto semplice Possono accedere alla propria installazione Al proprio PC Andarsi a fare quello che vogliono Direttamente da una pagina web Questa cosa è fantastica La versione web edition Quindi mobile web edition Costa un pochino in più Come vedete 165 euro tra i utenti E via dicendo Però vi permette di fare per l'appunto Questa cosa fantastica Se volete avere un livello di sicurezza in più Se andate in RDS add-on Trovate la possibilità di aggiungere Il 2Factory Authentication Ok quindi se noi andiamo a fare A scaricare Guardate ve lo faccio direttamente vedere Allora era in Non system Add-on Eccolo qua 2Factory Authentication Entriamo Lo attiviamo E andiamo a gestire gli utenti Andiamo ad aggiungere il nostro utente Administrator di prima Ok Perfetto L'abbiamo già attivato Se noi ritorniamo qua Rifacciamo l'accesso Scusate Devo ricaricare Ok Avrei dovuto ricaricare la pagina Comunque Come vedete mi dice Di andare a scansionare questo QR code Per andare poi a specificare qui Il token di accesso Ogni volta che vado a effettuare il login Per chi non sa di cosa parlo Nel video precedente di Protectimus Che vi avevo Fatto vedere il link all'inizio del video Spiego benissimo come funziona Con Protectimus Quindi andatevelo a vedere Oltre questo possiamo addirittura fare Le mute app Ma qui è un discorso un po' particolare Nel senso che potremmo Andare a configurare qui su apps Andare a configurare delle app Per esempio qui Come test notepad Se io vado a segnare Quest'applicazione A un utente Quindi ma adesso Gli do tutti per semplicità Vado a segnare questa applicazione Qui Mi vado a loggare C'è bisogno del plugin Quindi dovete installare il plugin Quindi vabbè Ma comunque si è installato un plugin Fate il login Vi trovate Semplicemente Sì remote desktop Ma solo L'applicazione che volete utilizzare Quindi in quel caso Che avete pubblicato notepad Solo notepad Il classico Remote app Di windows server Quindi uguale Solo che lo potete Anche quello Farlo da web Però vi ripeto La funzionalità HTML5 È veramente Secondo me Una svolta Ci sono altre Funzioni Che è inutile Che vi sto a spiegare Se ve lo scaricate È molto semplice Tipo Universal printer Che vi permette Di avere una stampante standard Valida Senza andare Ad installare ogni volta Il driver Vabbè Tutti i discorsi particolari Che nel sito Trovate ampiamente Spiegati Sulla documentazione E Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Iscriviti al canale Attiva la campanellina E metti un mi piace Mi raccomando È importante Per farmi fare Altri video Grazie Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima